Questo è il programma più idiota della televisione terrestre. Perché Ros, che è il personaggio più grosso di tutti i Friends, non mangia gli altri cinque? Risparmiano la scena per gli indici di ascolto. Esimio comandante, sono arrivati i messaggeri della Terra con una proposta di pace del loro debole e timoroso governo. Oh, molto bene. Comunque l'episodio era tutto incentrato su Joy.